Voi non avete mai lavorato dentro un'agenzia di pompe funebri? No, no Vabbè, non fai niente, Giacomino mi ha detto che siete la tua persona in esse e questo è quello che conta Allora, questi piatti? Ma che vuoi, che ce li apprendi? C'è per me qualcosa? Possibile, sta sempre al di capo tua Ciao, che mi fai 50 di sei, per favore? Il bagno? Il fondo a destra Ma è inutile che te gratti, ho solo preconcenti Quanti ne dobbiamo prendere? O andiamo a dar fiorare e diamo un mazzo di rose Fammo una cosa Andiamo a casa Vediamo quello che c'è e così si regolano Più che cazzo a morta non mi pare la sarma Andiamo e salite, vado e prendiamo Grazie a tutti